Conosci davvero tutte le nuove funzionalità del nuovo Google Pixel 9 Pro XL? Oggi te ne mostrerò alcune e non preoccuparti, non andranno bene solo per il modello XL o Pro, ma andranno bene anche per il modello base, quindi guardate il video fino in fondo. Sappiamo tutti che la personalizzazione Google è molto vasta e con l'arrivo dell'intelligenza artificiale è migliorata notevolmente la personalizzazione, quindi prendi in mano il tuo pixel e incominciamo subito. Grazie all'intelligenza artificiale se non vogliamo utilizzare un classico sfondo preso su internet o una nostra fotografia possiamo farla creare al nostro smartphone. Teniamo premuto sul display sfondo e stile e andiamo sulla voce altri sfondi. Qui possiamo o crearne da zero con le AI, cliccando su sfondo AI, scegliamo lo stile, usciranno delle parole e quelle tratteggiate potranno essere modificate a piacimento così da creare ulteriori sfondi istantaneamente. Se no, tornando indietro, possiamo creare sfondi con le emoji che vogliamo. Clicchiamo sulla voce Emoji Lab, sotto clicchiamo su tutto quello che vogliamo e lui ce li inserirà. Modifichiamo motivi e poi anche il colore a piacimento. Clicchiamo per l'anteprima e se notiamo avremo anche un'animazione quando clicchiamo un punto sul display. Fatemi sapere già sotto nei commenti cosa ne pensate di queste personalizzazioni, continuiamo pure. Sempre nella pagina sfondo possiamo, aggiungendo una foto da galleria, renderla animata con le AI. Una volta scelta, ci uscirà in alto a destra questa icona qui. Clicchiamo, lui processerà la nostra immagine e la renderà tridimensionale con un effetto di movimento. Secondo me questo effetto qua potrebbe rendere qualche vostra fotografia anche un po' più carina sul vostro display del vostro smartphone. Visto che disponiamo di un pixel, perché non utilizziamo appieno la sua sicurezza grazie alla VPN compresa nel suo smartphone gratuita? Come si attiva? Ora ve lo mostro subito. Andiamo su impostazioni, rete e internet, scendiamo fino a VPN e attiviamola. Il consiglio che vi do è di tenerla attiva solo sulla voce wifi senza attivarla nella connessione rete mobili. Per quale motivo? La VPN potrebbe aumentare il consumo dei dati, batteria e rallentare la connessione. Consiglio di tenerla attiva per wifi, così se vi collegherete a qualche wifi, magari gratuito, in giro per le città o magari dentro un hotel, avrete più sicurezza sul vostro dispositivo. Ora parliamo un po' della tendina del nostro smartphone. Ora abbassiamo la tendina e modifichiamo un po' le nostre scorciatoie. Abbassiamo la tendina e clicchiamo sulla matita. Avremo a disposizione una lista lunghissima di voci, scegliamo quelle che preferiamo e posizioniamole in base alle nostre necessità e utilizzo più frequente. Ora programmiamo il nostro pixel per non avere disturbi alla sera, magari se parliamo di vista in base anche alla luminosità che impostiamo, o anche per non avere disturbi mentre dormiamo da applicazioni, per esempio da notifiche che potremo ricevere durante la notte. Abbassiamo la tendina e teniamo premuto sulla voce luminosità notturna. Andiamo su attiva e sotto selezioniamo gli orari che preferiamo. Io ho selezionato dalle 10 di sera fino alle 9 di mattina, che di solito vado a dormire a mezzanotte e mi sveglio alle 8, però voglio avere già quando sono a casa, dalle 10 di sera fino alle 9 di mattina, uno schermo che mi dà meno fastidio possibile agli occhi. Io possedgo anche degli occhiali anti luce blu, se non li possedete comunque questo qua fa già un ottimo lavoro per i vostri occhi. Poi andiamo sulla voce modalità riposo che troviamo nelle voci da selezionare e aggiungere alla tendina. Teniamo premuto e impostiamo anche lì quando attivarla. Come vedete io ho messo l'orario che vi ho detto, vado a dormire a mezzanotte e mi sveglio alle 8. Grazie a questa modalità, quando attiva, le notifiche saranno disabilitate, tranne le persone che noi vogliamo. Il display diventerà bianco e nero e se vogliamo possiamo anche monitorare l'attività del sonno. Se abbiamo lo smartphone sul comodino, attivando il microfono gestirà anche la tosse e il russare. Quante volte ci capita di entrare dentro un locale o comunque da qualsiasi parte che c'è una canzone e vi sembra anche piacevole? Vorreste conoscere il titolo ma non volete sbloccare il telefono e stare lì a utilizzare Shazam? Bene, il vostro pixel potrà fare tutto in automatico e salvarvi il nome dei brani che sentite in giro. Ora vi mostro come attivare questa impostazione. Clicchiamo su impostazioni, suoni e vibrazioni, scendiamo fino alla voce Now Playing e attiviamo tutto. In automatico, quando ci saranno delle canzoni, lui salverà il titolo qui in questa cronologia. Guardate quante me ne salvate e se non volete anche ogni volta andare qui per vedere la cronologia, potrete aggiungere una scorciatoia nella schermata home. Ora passiamo un po' nel lato AI, editing e foto. Sappiamo tutti che Pixel è sempre uno dei migliori su quel lato lì di intelligenza artificiale, maggiormente se parliamo di ambito foto e video. Ma quest'anno hanno implementato anche delle novità, una per esempio fra tutte è il miglioramento dello zoom. Ma in che cosa consiste? Ora ve lo mostro subito. Per prima cosa, apriamo una nostra foto molto zoomata e magari con scarsa qualità. Clicchiamo su modifica e ci uscirà la voce Zoom migliorato. Cliccando lo smartphone attraverso un processo da parte delle AI sistemerà la tua fotografia, cercando di migliorare i dettagli e la qualità. Non sarà un super risultato, ma potrebbe tornare utile se vuoi recuperare un po' una fotografia di scarsa qualità. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa implementazione che hanno fatto. In certe foto non è male il miglioramento, in altre per esempio su delle scritte o altri dettagli pasticcia un pochino. Secondo me con dei vari aggiornamenti andrà a migliorare comunque. Parlando sempre di editing si può sostituire qualsiasi cosa si vuole di una foto con qualcos'altro. Andiamo sulla foto desiderata, modifica e clicchiamo su questa icona in basso a sinistra. In automatico ci porterà qui e possiamo selezionare un punto specifico. Scrivere cosa vogliamo al suo posto o aggiungere qualcosa e lo smartphone in automatico farà tutto. Vi consiglio di testarlo bene perché naturalmente fa un buon lavoro ma ogni tanto ha qualche limite. Questa volta andiamo direttamente sulla nostra fotocamera e parliamo della voce che hanno implementato che si chiama aggiungimi che utilizza molta intelligenza artificiale. Ora vi mostro come funziona e a cosa serve. Prima inquadrando lo sfondo la prima persona si metterà in posa, l'altra persona scatterà la fotografia, terrà sempre la posizione. La persona che è andata in posa in precedenza andrà a prendere lo smartphone, terrà comunque in linea la fotografia tanto lo smartphone vi aiuta. Scattando attraverso un processo di intelligenza artificiale lui realizzerà una fotografia che sembra quasi che avete scattato con una terza persona mentre in verità siete solo voi due. Sicuramente ha dei limiti questa impostazione qua perché certe volte se sei in una posizione che vai ad allargare il braccio o qualcos'altro si va un po' a sovrapporre in un modo sbagliato però non è per niente male perché comunque vi permette di fare appunto questa fotografia qua se non volete fare il classico selfie. Facciamo un salto sul nostro assistente personale che è Google o Gemini e se volessimo attivarlo solo tenendo premuto il nostro tasto colaterale ora vi mostro come attivarlo in questa maniera qua. Andiamo su impostazioni sistema e clicchiamo su gesti. Andiamo su tieni premuto il tasto di accensione e selezioniamo assistente digitale. Lo trovo nettamente più comodo e veloce rispetto a magari dire hey Google. Ora vi mostro un piccolo consiglio sulla batteria perché non può mai mancare. Il piccolo consiglio sulla batteria è quello di tenere attiva l'impostazione ricarica adattiva. Con il passare del tempo lo smartphone capirà la tua routine e gestirà in maniera differente la ricarica così da prolungare la durata della tua batteria. Fatemi sapere sotto nei commenti quali di questi trucchi e consigli magari conoscerete già, quali utilizzate di più e sicuramente più avanti faremo anche un video dedicato sui migliori settaggi foto e video su di lui perché quello anche non può mai mancare. Quindi per non perdervelo vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e per sostenermi in maniera gratuito potete anche lasciare un bel like. Ci vediamo direttamente domenica prossima con un nuovo contenuto. Ciao ragazzi!